Sergio Mattarella, adesso parliamo del venerdì nero dei mercati, mercati internazionali che hanno vissuto davvero una giornata di passione, travolti dai timori per il colosso tedesco Deutsche Bank. Ancora aria di tempesta sulle banche e di riflesso sulle borse che hanno vissuto un nuovo venerdì di passione. Dopo il crack della californiana Silicon Valley Bank e il salvataggio lampo di Credit Suisse per mano di UBS, adesso a destare i timori è il colosso tedesco Deutsche Bank. Si tratta di una delle 30 banche di rilevanza mondiale, la prima in Germania, e a detta del cancelliere Olaf Scholz non ci sono ragioni per mettere in dubbio il suo futuro. In 24 ore però sono letteralmente esplosi i CDS, i Credit Default Swaps, a 5 anni di Deutsche Bank, ovvero i derivati che danno la possibilità di coprirsi da un'eventuale insolvenza sul debito obbligazionario. Le azioni della banca sono state quindi oggetto di pesanti vendite, arrivando a perdere il 13% e trascinando in rosso non solo la borsa di Francoforte, ma tutto il comparto finanziario europeo. Milano ha chiuso la seduta in rosso con i titoli bancari in forte perdita per tutto il giorno, nonostante le rassicurazioni di Christine Lagarde sulla solidità delle banche dell'Eurozona e sulla disponibilità della BCE di fornire liquidità se sarà necessario. I soldi sui conti correnti non corrono rischi, in Italia non sono possibili situazioni come quelle della banca californiale e come quella della banca svizzera, cioè della Credit Suisse. Questo non vuol dire di dimenticarsi, di essere attenti e di fare scelte consapevoli chiedendo sempre consigli in banca. La prudenza è d'obbligo. Avete sentito in apertura le conclusioni del...